e benvenuti in questo nuovo video siamo tornati su minecraft minigames su ipixel tnt tag allora andiamo a fare 2 o 3 tnt tag tanto non lo so che perderemo ci andiamo subito al gioco ok 5 secondi e partiamo un secondo ecco ci siamo ho già la tnt madonna già sto per perdere l'ho data l'ho data perfetto l'ho dato un po' una merda quello con la tnt vaffanculo andiamo a camperare andiamo a camperare merda siamo 26 giocatori quello con la tnt vaffanculo non mi ha visto non mi ha visto non mi ha visto no qua non è un posto buono via 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 merda quello che no no meno male cazzo sono caduto dai che ce la devo fare la devo vincere almeno fra i primi tre devo arrivare anche se sarà impossibile mannaggia cado sempre ok la tnt prima esplosa vediamo chi ha la tnt non io perfetto non io perfetto vattene no se me guarda quello dove va a camperare fanculo campererò qua allora quello della tnt non lo vedo quindi non mi piace questa cosa cadi tu non puoi venire non puoi venire metto fanculo pesci un fuori fanculo merda dove cazzo sta quello con la tnt ecco bravo quello è caduto no dove è il buono ok camperiamo qua tanto nessuno ci prenderà mai no ecco l'ho appena detto via dove sei dove sei dove sei ho la tnt cazzo la tnt via via ecco eh 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 sì l'abbiamo data via 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 no due con la tnt tre sono in basso la tnt ecco via tieni tieni fanculo fanculo no non l'ho data tieni perché non me la da perché non la da non la da come no vabbè sta quest'altro tieni 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 ecco l'ha data via 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 sette secondi dai che ce la faccio dai cinque sei quattro tre due uno siamo ancora vivi siamo ancora vivi siamo ancora vivi mancano undici giocatori mamma mia vediamo chi ha la tnt olè non io non io perfetto merda non so fare manco un po' di parkour mamma mia quello con la tnt sta vicino a noi picci vai no dove sei dove sei siamo undici player cinque secondi esplode dai ok dieci player quello con la tnt esploso no sbaglio il parkour all'ultimo non ci credo perché è snowball olè che ho preso le manna benissimo no speriamo che questo non la tnt quello con la tnt eccolo 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 vai ciao no sta qua sotto non mi prendi ecco esploso esploso mamma mia 8 giocatori nuovo record per me mamma mia devo camperare no ce l'ho io questa è la volta buona che perdo dove sono dove sono vedi i nomi vedi i nomi no e dove sono ma c'è nessuno c'è nessuno dove siete no 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 6 secondi 7 secondi eccolo eccolo prendi ecco ho perso vabbè ragazzi siamo arrivati 6 questo video di oggi può finire qua purtroppo non abbiamo vinto ma era ovvio che non sono molto bravo ai minigames ricordo è partire un'altra ah no si è buggato tutto vabbè ricordo di lasciare mi piace iscrivervi al canale se volete un altro episodio ditemi lo faccio subito poi tra poco inizierà anche la nuova serie ctm forse un altro youtuber non lo so devo aggiustare dei problemi di lag no non di lag di far sentire la voce vabbè sono problemi vostri vi ricordo 5 like prossimo episodio bella